Buongiorno a tutti ragazzi da PokerStarter3, seconda parte del terzo box, sì, sto perdendo il conto, mai aperti così tanti box, quindi direi di partire subito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, questa è la capovolta, perfetto, ok, prima parte è andata veramente bene, speriamo di continuare così. Dunque, Fossil Researcher, Hitmonlee, Corrina, Shroomish, Cleferi, Trafinch, Scorupy, Shelmet, Eevee Reverse e la rara è un McMurtar. Codice. Super Scoop Up, mi piace tantissimo quest'artwork nuovo, bello. Fossil Researcher, Hitmonlee, Scregi, Minun, Cluncher, Shroomish, Cleferi, la reverse bellissimo, Flygon Raro Reverse e la rara è ottima, Slaking Olo, molto bella. Dunque, Mian Shao, Joe Fossil, Super Scoop Up, Poliwag, Slakoth, Neubert, Drausi, Patrat, la reverse and drapping che dovrei avere già e Flygon Raro. Codice per voi, sono in una posizione scomodissima ragazzi, non potete capire. Allora, Dedenne, Mian Shao, Joe Fossil, Pikachu, Slakoth, Kaptu, Patrat, Eevee, la reverse è un Hitmonlee, bella, e la rara è un Sylveon. E solo il secondo Sylveon, che trovo? Bella. Andiamo con Mega Lucario. Dunque, Mountain Ring, Hitmonchan, Dedenne, Eevee, Electabuzz, Gotita, Makuita, Lichitang, la reverse è uno Slakoth, e la rara è... Lucario X Full Art, l'altra Full Art più... anzi, la Full Art più famosa del set, più voluta del set, più ricercata. È bellissima, con i suoi tre attacchi mi manca, quindi ottimo. Guardate che bella. Wow. Metto subito in sleeve. Anche questo box, devo dire che, caspita, non ci si può lamentare. Che spettacolo. Ottimo. Benissimo, ragazzi, sono veramente strassoddisfatta di questo acquisto. Codice per voi. Axelgor, Mountain Ring, Hitmonchan, Neuvert, Trafinch, Electabuzz, Poliwag, Plazol. Benissimo, questa mi manca, Mountain Ring Reverse, e Hypno Raro. Comunque, con questi box per questa edizione hanno fatto veramente un ottimo lavoro di rare, diciamo, ex o full art, perché finalmente, con queste 36 bustine, almeno si trova qualcosa, ma veramente di importante. Mountain Ring, Focus Sash, Amaura. Io mi ricordo i vecchi set, i vecchi box, che comunque, se ne trovavano quattro in tutto, a essere fortunati. Quindi, sono contenta che abbiano alzato un po' il rating. Noi, Batreverse. E la Rara è un Goalwork. Vediamo anche una luce. Ok, questo è per voi. Dunque, Fossil Researcher, Whipping Bell, Mountain Ring, Machop, Cloucher, Eevee, Scorupi, Trausi, la Reverse, bellissima, Goalwork, Rara Reverse, veramente bella questa in Reverse, e la Rara Unglision. Dunque, Raichu, Fossil Researcher, Whipping Bell, Cluzzle, Clefairy, Eevee, Electabas, Gotita, bellissimo, Energy Switcher Reverse, anche questa, mi sembra che mi manchi, e ho, terza, terza full art del box, ragazzi, e anche questa mi manca. Incredibile. Fossil Researcher. La normale è questa full art, che non mi fa impazzire, però, bellissima. Fossil Researcher, che fortuna, veramente che fortuna. Con Amaura, che sarà l'unica full art in cui ci sarà questo Pokémon, sicuramente, bellissima. Che fortuna, sono senza parole. E siamo, più o meno, a metà box, poco, appena passata, alla metà, quindi ho ancora un sacco di bustine da aprire. Wow. Questo non mi ricordo più, comunque lo do a voi per festeggiare la full art. Allora, Scrafty, Sail Fossil, Raichu, Puncham, Pikachu, Magmar, Gotita, Makuita, la Reverse, ottimo, con Rina Reverse, che forse avevo già, quindi questa è da scambio, e la rara è un Tyrantrum. Ultimo, due pacchetti di questa apertura, di questa parte, scusate. Dunque, Dedenne, Battle Reporter, Itmonchan, Trapinch, Mainun, Torchic, Clefeiri, Shrumish, la Reverse, un Axelgor, e la rara è incredibile, Save Me Todd X, questa l'ho già trovata nello scorso box, quindi, ragazzi, è da scambio, ma come vi avevo già detto, chiedetemi le carte alla fine, quando farò il video di recap di tutto quello che scambio, così almeno non c'è confusione, non prendo adesso prenotazioni, che poi magari mi dimentico, o vi dimenticate voi, facciamo tutto alla fine che è meglio, comunque, bellissima. Questa è da scambio. Ottimo, perché questa qua è apprezzata dai giocatori, mi pare, quindi benissimo. Ultimo pacchetto per questa parte, che è stata veramente una parte grandiosa. Codice. Dunque, Itmonchan, Scrafty, Sail Fossil, Cloucher, Mienfoo, Bellsprout, Gollet, Machop, la Reverse è un Poliwag e la rara è un Pangoro. Bene, ragazzi, parte Megagalattica, con queste due bellissime full art e questa ex. noi ci vediamo all'ultima parte di questo box. Ciao ragazzi, alla prossima!